e vai ragazzi molti di voi in questi giorni stanno chiedendo quando nasceranno i primi porcini guardate un nemico incredibile è proprio questo il vento il vento condiziona le nascite in maniera incredibile tanto quanto l'acqua se non di più anzi sicuramente per cui è estremamente estremamente difficile poter capire quando usciranno però c'è una cosa certa che prima o poi arriveranno e credo sia una gioia per tutti quella e ragazzi avanti 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 mai mollare e il bosco bisogna frequentarlo ma soprattutto ma soprattutto rispettarlo quindi se venite nel bosco mi raccomando e lasciatelo meglio di come lo avete trovato ciò significa e dovete per forza venire a casa una bottiglietta trovata nel bosco qualche altro rifiuto questo ci consente di lasciare una natura meglio di come l'abbiamo trovata ragazzi che dire vi aspetto sul canale youtube porcini e passione ma questo tempo stamattina fa anche più freschino quindi non lo so quanto tempo ci vorrà ancora per i nostri amatissimi porcini ma usciranno usciranno e venite nel bosco avanti 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 ma dai bellezza ma dai bellezza